Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come avete visto dal titolo andiamo a analizzare alla fine di questo video il modello di Abarth 500 presentato al salone di Tokyo nel 2008 da parte del gruppo FCA è un'auto che a me mi ha stupito tantissimo lo troviamo all'interno del museo di FCA Heritage che possiamo trovare nell'ex stabilimento Officino 81 l'ex impianto di produzione meccanica di Fiat nel corso degli anni che poi è stato abbandonato e smantellato appunto per poi in questo caso essere utilizzato per costruire questo bellissimo museo che attualmente è chiuso al pubblico, noi siamo riusciti a visitarlo grazie all'AbraCrap Torino in questo caso da parte mia anche grazie all'Automobili Farina Carrozzeria anche sponsor del canale e della mia pagina Instagram nel corso del video vi facciamo un po' vedere qualche clip un po' dell'arrivo insieme appunto agli abartisti dell'AbraCrap Torino e qualche ripresa insieme al venente ragazzi all'interno del museo dove andiamo a vedere un po' i modelli che mi hanno interessato un po' di più quelli che sono riuscito a filmare perché comunque ho voluto cercare anche di godermi la visita è durata in circa due ore e mezza è tra virgolette pesante perché dura un po' però è molto interessante abbiamo avuto anche la libertà di andare a vedere i modelli durante tutto il percorso e non sono stato lì a riprendere uno per uno anche perché sarebbe stato impossibile farvele vedere tutti praticamente in 10-15 minuti di vlog non resta altro ragazzi che appunto procedere col video e farvi vedere tutte le clip che ho registrato quel giorno che ho cercato di raggrupparvi un po' in questo piccolo video siamo qua in FCA insieme all'AbraCrap Torino e Automobili Farina Carrozzeria per andare a fare una piccola visita dentro il museo dell'Heritage è un bel po' di tempo che volevo venire qua dentro in Abarth e quante abartine che stiamo portando e non ho avuto mai modo dovevo venire qua due o tre anni fa prima che scoppiasse l'emergenza covid e non ero potuto più venire faremo un tour all'interno dove vedremo un po' i vari modelli che hanno fatto la storia vedremo un po' all'interno ci sarà una guida che ci spiegherà molto probabilmente anche la storia di ogni modello come qua è pieno di abartisti tutti i ragazzi iscritti all'AbraCrap Torino qua ci sono un sacco di Abarth adesso stiamo parcheggiando bene o male tutte le macchine qua guardate che spettacolo è sempre uno spettacolo ragazzi essere qua in compagnia di abartisti ed appassionati poi adesso sta arrivando il grande Betta e andiamo a rompergli un po' guardatelo eh è già carico non ride neanche va bene che non si riuscirebbe neanche a vedere però guardatelo eh ragazzi guardate quante belle abartine che abbiamo parcheggiato qua una più bella dell'altra una cosa bella che dico sempre del mondo Abarth è la possibilità di riunirci tutti con questi eventi tutti appassionati senza nessuna distinzione va bene qua abbiamo parcheggiato la Blechi e qua sempre tutte le altre abartine tutte belle messe qua in fila guardate che belle ragazzi e anche qua il nostro Super Novi super carichissimo fai vedere la faccia se non ti riconoscono ma lo sai che tu hai fatto più di 45.000 visual con la tua macchina eh lo so eh ah hai fatto un bel successo eh e poi vabbè qua ci sono tutti i ragazzi che adesso adesso arriva Massimo il nostro Super Mega grande Boss Boss è tutto bene guardatelo eh non si va contro luce non si va contro luce poi qua adesso ci stiamo radunando tutti tutti i ragazzi della Broca Club Torino tutti gli invitati e non vediamo l'ora di entrare dentro e vedere tutti i modelli che ci aspettano adesso ragazzi facciamo un piccolo tour dentro guardate quanti modelli che ci sono hanno detto che l'apriranno al pubblico a breve noi abbiamo fatto la visita facendo la visita con la Broca Club Torino e guardate quanti mezzi che ci sono già solo qua possiamo vederne uno veramente interessante vedere due prodotti veramente molto interessanti guardate eh mamma mia qua ci abbiamo la storia delle corse che spettacolo ragazzi bellissimo qua ragazzi possiamo osservare un po' dei vari modelli storici del gruppo comunque FCA in generale guardate che spettacolo questa Stratos della collezione storica Lancia penso che sia una delle mie auto preferite di tutta la storia un'auto così ha un fascino incredibile ragazzi poi qua ci abbiamo una bellissima Fiat 131 Abarth rally gruppo 4 con questa spettacolare Livrea all'Italia e arrivano i pezzi grossi con una 037 questa è la mia auto preferita per quanto riguarda questa tipologia secondo me è molto molto più bella rispetto alle Delta io l'ho sempre amata la dì quando l'aveva provata a Cironi mi ero emozionato tantissimo a vedere il video perché secondo me questa è la macchina di tutta la storia è una delle mie preferite in assoluto veramente spettacolare fermiamoci un secondo come ti avrei visto lo spazio che era dedicato all'ufficino 81 è veramente grande ma di come possiamo vedere con la guida in questo caso che ci stava spiegando un po' la planimetria del museo divisa su divisa in nove padiglioni più altre file esterne come queste che troviamo dedicata ad alcuni modelli dell'Alfa Romeo possiamo vedere subito una Giulietta una 4C dedicata alle competizioni e utilizzata come safety car le famose 8C in questo caso entrambe cabri con questo spettacolare bianco perla e tanti altri modelli che comunque hanno fatto la storia del marchio non dimentichiamoci anche il prototipo della mai utilizzata Avar 124 GT4 con propulsore 1.8 turbo benzina ovviamente famosissimo motore dell'Alfa Romeo purtroppo non è mai stata utilizzata e secondo me è una grandissima altra occasione sprecata da parte di FCA nel mondo delle competizioni poi all'interno del museo possiamo trovare anche tanti altri modelli che hanno fatto la storia del marchio dei vari marchi italiani del gruppo che adesso sono sotto FCA e anche altri prototipi esclusivi che sicuramente il 98% di noi non avrà mai visto e che avrà occasione di andare a osservarli per la prima volta all'interno del museo non poteva assolutamente poi mancare anche un filone dedicato al marchio Lancia e qua possiamo osservare infatti un bel po' di modelli Lancia alcuni stradali ed altri utilizzati nelle varie competizioni e anche quelli dei dilettanti questa è la prima 500 Abarth ragazzi in assoluto la 500 Tokyo guardate che storia che emozione averla qua davanti quale elettone è lì è fighissimo mi sa che dobbiamo replicarlo bene come avete appena visto questa qua è la 500 Abarth che è stata presentata il 2008 nelle storie di Tokyo a me ha colpito subito che spettacolo ragazzi oltre ad essere molto più larga di quella originale presenta anche dei cerchi da 18 in questo caso erano delle gomme degli semi-sleek da competizione ha la trazione integrale ragazzi già questa è una feature incredibile e ha anche ovviamente altri particolari un'estrattura dedicato uno spoiler dedicato questo secondo me è un'altra occasione mancata da parte del gruppo FCA perché anche se avessero prodotto un modello come questo una 695 come questa in trattura limitata 500 esemplari sarebbe stata un'occasione per dare un'esclusività ancora più al marchio un modello che avrebbe fatto gol a tutti gli appassionati anche quelli che non potevano permetterselo comunque avrebbero avuto sotto gli occhi un'auto che avrebbe fatto innamorare veramente tanti di noi bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questo video spero che vi sia piaciuto comunque non vi ho neanche messo tantissimi modelli anche perché non volevo rovinarvi l'esperienza magari la prima volta che andrete all'interno del museo perché ci sono veramente tanti ragazzi tanti modelli esclusivi che non ho voluto filmare e vi consiglio assolutamente quando sarà aperto il pubblico di andare a farvi visita mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale lasciate nei commenti quello che è stato il modello che vi ha interessato un po' di più che vi ha colpito un po' di più lasciate nei commenti anche se secondo voi è stata una grandissima occasione mancata da parte di FCA il non produrre questa spettacolare Abarth sotto questa veste veramente molto molto racing e con trazione integrale seguitemi su Instagram trovate tutti i link dei miei social anche TikTok qua sotto in descrizione e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao